Ragazzuoli il raduno di oggi è andato davvero stra bene, abbiamo sorpassato finalmente 100 on sul server soltanto Pryzon Detto questo votate mi raccomando su Minecraft Italia, vi lascio il link in descrizione Il nostro serverone mi raccomando poi ci sono i reward Un voto vi da ben due token, quindi cazzo, votate, votate, vota Detto questo un bel mi piace, buona visione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su mc.freepixel.eu Ma, what the fucking crazy? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Aspettate, 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 aspettate Mi sta colpendo, Fri, Fri mi sta colpendo, Fri, ma che cosa sta succedendo? Eccomi qua ragazzuoli, eccomi qua, no perché stavo col clone, col mio clone Cioè perché ho due account, no ovviamente, questo e l'altro, l'altro è founder Questo è per la serie, quindi si può tranquillamente giocare Ok, ci siamo spaccati malissimo di PvP, prima ho fatto il bot Eh, calla, io lo sapevo Eh, calla, ma no, eh, va bene Non mi fate male, non mi fate Che palle, vaffanculo Eh, subito, bavosi Vi odio tutti, vi odio Perfantemente tutti Ti slash kit Rivendiamoci il kit Quanto devo aspettare? Oh, zio You must Ma che cosa? Ti slash spawn Ti slash kit Ma che cosa, ma che cosa sta succedendo? Non posso prendere un'altra kit, ma veramente? Are you serious? Vabbè, praticamente sono senza niente Carina, come cosa? Adesso vado in mezzo alla pizza Oggi facciamo only PvP Raduno PvP free Ok? Quindi vado giù Tentiamo di prendere qualcosa Givatemi qualcosa Vi prego, non mi uccidete Non mi uccidete Subito Porca miseria Ti slash is Ma hai detto che c'è il rank dell'isola sotto Infatti 67 Lo vedo, siamo in rank 67 Eh, o non lo sapevo ragazzi Ma io non lo sapevi Cioè, non gioco Non ho giocato tanto a queste robe Quindi, piano piano Mi sto imparando Sto imparando con calma Ok, se ho ridotto male così Veramente? Ho armature? Se ho qualche tipo di armatura Vabbè, prendiamo Sto armature né a caso E poi andiamo Ti slash PvP No, non è vero Ti slash warp Andiamo al warp PvP E iniziamo a maciullare di nuovo Wow! Wow! Uccidi tutti Uccidi tutti Vai, mister free Bomber free Ok Sì E poi non posso Ecco, là Io lo sapevo che non posso uscire Perché questo Questo è un problema Via, via, via Tutti Via, tutti Via, tutti Sei Grandi che mi stanno givando Bomberoni Chi è? Questo è Mr. Pinus No, che mi sta givando Sei a lui, sicuramente lui Ecco, lui Questo è problematico Perché mi fa male Sicuramente mi spacca Mi spacca male Chi è che l'ha incendiato? Bella la corazza Eh, ma ce l'ho la corazza E cavolo fate Già ce l'ho Ok Qui i gambali Li voglio No, c'ho tutto Mi manca l'elmetto Ma Sono in condizioni pietose Nel senso Sono messo malissimo Sono tutti qui dentro E sto uccidendo male tutti Solo che non posso uscire fuori Finché Ecco, questo mi sfotta invece Vai, 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 vai Spam qui Oddio Oddio È arrivato anche il cannone Se l'ha preso col cannone Eh, ma guarda C'avevo il mondo Porca miseria là dentro Avevo fatto il numbers C'avevo il mondo E niente È andata male Però Avevo ucciso Cioè Stai imparando a killare abbastanza? Perché stanno qua? Non stanno qui Sono sbagliato Tutto No Non mi killate Così vi prego La cosa sta diventando esilarante E vi giuro M'hanno killato In tutti i modi possibili La cosa bellissima È che siamo ancora Prendi slot pieni No, ecco Non so se ve l'ho detto No, c'è stato il piccolo disguito Che siamo Se abbiamo gli slot pieni Non possiamo Far entrare altre persone Sul prison Ci sono 100 slot disponibili Adesso Agrederemo a 200 Credo probabilmente Adesso sono 96 Perché Vabbè Qualcuno Slogato Non tutti possono entrare Sempre perché Prima non mi faccio entrare Pensavo fossero 150 In verità però Ecco Io appena entro C'ho questo piccolo handicap Che mi killano Malamente Cioè Miliardi di persone contro E va bene Va bene Va bene Oltra cosa Che non vi ho detto ragazzuoli Vi ho detto no Che vi ho già detto Vedrai alla intro Probabilmente perché l'ho rifatta Votate il server Su Minecraft Italia Abbiamo Vi lascio il link in descrizione Abbiamo Il sistema di voto Che è ovviamente Il sistema di voto È giornaliero Per ora Non si può Non c'è il reward Per quanto Non so se Per uscire questo video Abbiamo messo già il reward Con tutte le varie cose Prenderete un token Ogni volta che votate Quindi mi raccomando Ragazzuoli Spaccatelo di voti Ho cambiato eu Ho cambiato account Dico Sono passato a quello founder Così ho anche accesso A tutta la bella creative Così mi rimetto Un attimo Bellissimi cose No ok Ho givvato nel metto Vabbè Ok givviamo anche nel metto Mi prendo Un piccolo set In diamante E facciamo un po' Di pvp serio Tentando di non morire male Woho Tac Adesso Torniamo giù In game mode Slash game mode Zero Warp Ok E adesso Andiamo a vedere un po' Free Una cosa Non so che cosa ho letto Bye Waha non ho mele d'oro infatti è stata una cazzata perché non ho mele d'oro probabilmente perderò il mio kit ma va bene lo stesso le mele d'oro erano importanti esatto le mele d'oro sarebbero state molto importanti perché tutti addosso a me però questa è un po' una mafia signori nel senso non è bello fare questa cosa no 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 via 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 free vai vai in qualche posto bucati da qualche parte Devo anche saltare E spam cliccare Dai 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 E poi sto tipo Mamma mia quante hit faccio Uccidilo male Uccidilo male Sto hittando un botto Però non so se riuscirò mai A ucciderlo male Ok avevo ucciso qualcuno L'avevo ucciso Però effettivamente sono stato hittato Pesantemente Mi sono scordato le mele d'oro Che poi loro hanno anche le cose incantate Sono un po' effettivamente sotto Non mi interessava tanto essere sotto con l'armor Quanto più però con le mele d'oro Perché è comodo E' effettivamente molto comodo Poi la spada fire aspect Sharpness tanta roba Poi io sono una sega il pipi lo sapete Fly mettiamoci la fly eccoci qua Va bene ragazzoli dai per questo video penso Possa tranquillamente essere tutti Abbiamo tutto Abbiamo cazzeggiato la grande Abbiamo però riempito il server Sold out oggi Sold out Tutti insieme Felice e contento Che abbiamo riempito Tutti gli slot del server Siamo arrivati appunto A 105 di picco massimo Con la fly posso volare Bellissima Meravigliosa sta cosa Va bene ragazzoli Penso che per questo video Possa tranquillamente essere tutto Vi ringrazio tantissimo Alla visione Guarda lasciare mi piace Se vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se vi è fatto di condividere il video Su facebook E fammi c'è una persona Mi raccomando passate in tutti I link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram E ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti